Ancora una volta tecnologia e scienza sono arrivate a un risultato storico e in questa parte di storia protagonista è anche la Toscana. Una mano robotica è stata impiantata per la prima volta in modo permanente e potrà essere utilizzata quotidianamente. L'intervento è stato eseguito in Svezia su una donna di 45 anni e la mano robotica è stata costruita grazie al progetto europeo The Top, guidato da Christian Cipriani dell'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Ciò che dà valore all'intervento è che si tratta della prima tecnologia utilizzabile nella vita di tutti i giorni e non solo all'interno di un laboratorio di ricerca. La donna alla quale la mano era stata amputata nel 2002 sta seguendo un programma di riabilitazione per riacquistare forza nei muscoli dell'avambraccio e utilizzando la realtà virtuale sta imparando a controllare la mano robotica. Grazie a questa interfaccia uomo-macchina così accurata e al grado di sensibilità della mano artificiale la donna potrebbe presto riacquisire funzionalità motorie e percettive molto simili a quelle di una mano naturale. I 16 elettrodi inseriti nei muscoli permettono di stabilire un collegamento diretto tra la protesi e il sistema nervoso. In questo modo la mano robotica può essere controllata in modo più efficace e diventa possibile anche ripristinare il senso del tatto. La protesi è stata realizzata dalla Scuola Superiore Sant'Anna e dall'azienda Prencilia, spin-off dell'Istituto di Biorobotica della Scuola di Sant'Anna, nell'ambito del progetto The Top, finanziato dalla Commissione Europea all'interno del programma Horizon 2020.